Massimiliano Messina nello stand di Flu, che novità presentate quest'anno? Le novità legate al fast-start com di nostri clienti, noi in questo momento siamo seduti su una di queste, il divano componibile Olivier, disegnato da Emanuele Agarbini e Mario Dell'Orto, divano componibile tutte queste parole per dire che lasciamo la libertà ai clienti di disegnare gli elementi del proprio arredamento in modo da seguire il modo in cui vogliono riposarsi o comunque vivere casa loro. In questo caso ci capita sempre più spesso che cascano delle barriere in casa, gli ambienti si mischiano, quindi magari nel letto, perché la Flu parte dai letti, voglio leggere, voglio usare il computer, ma nel divano magari voglio stare più comodo, un po' più rilassato. E quindi abbiamo portato tutta la nostra conoscenza sul riposo, sulla piacevolezza della comodità, anche sui divani con quello che è un divano Olivier che permette di avere le diverse comodità che poi le persone stanno cercando. E poi ci sono altre collaborazioni storiche con Dordoni e Colombo. Di letti e quindi diciamo della storia di Flu, quest'anno presentiamo due prodotti, uno disegnato da Carlo Colombo, molto morbido, estremamente confortevole, che arriva dalla tradizione tessile della Flu, e poi l'altra novità invece è l'ICO di Rodolfo D'Orboni, che è interessante perché prende un materiale, se vogliamo, anche povero, come può essere il ferro, e lo rende un oggetto estremamente elegante e ricercato, dotandolo di dettagli magari imbagnati nell'oro, piuttosto che cuoio, cucito, con una cucitura a mano molto visibile, che disegna delle forme che poi alla fine in un complesso portano una proposta nuova che fino in questo momento sul mercato non c'era. Quindi anche uno studio approfondito dei materiali? Uno studio dei materiali, uno studio approfondito dell'utilizzo dei nostri prodotti da parte dei clienti e soprattutto la ricerca del benessere. Noi siamo convinti che chi compra i nostri prodotti debba, grazie a loro, vivere poi in maniera più piacevole il suo ambiente domestico.